Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Mirko e questo è un nuovo video. Oggi vorrei dare il via a una nuova rubrica sul mio canale che ho deciso di chiamare Autori Fantasy. L'idea di questa rubrica è di prendere un autore di libri fantasy e andare in qualche modo a raccontare la sua storia, la sua biografia e la sua bibliografia, quindi soffermandoci in modo particolare su quelle che sono le sue opere più famose o meno famose. Comunque fare una raccolta di quello che ha scritto e parlarvene in qualche modo. Il primo autore che andremo a conoscere in questa prima puntata è il nostro carissimo George R. R. Martin. George Martin è sicuramente uno degli autori fantasy più importanti e più conosciuti e più letti negli ultimi anni. Nesce a Bayonne, nel New Jersey, Stati Uniti, il 20 settembre del 1948. George nel periodo dell'infanzia frequenta la Mary Jane Dawn School e successivamente al battesimo aggiunge la seconda R al suo nome, la R di Richard, ovvero il nome di suo cugino, diventando così George Raymond Richard Martin. George R. R. Martin. Successivamente studia la Mary's High School ed è proprio in questo periodo che la passione per la scrittura comincia ad essere sempre più forte nella vita di George. Fino alla più tenera età comincia a viaggiare nel fantastico e nella fantascienza, ispirato da tanti autori che l'hanno in qualche modo ispirato e hanno alimentato la sua passione per questo genere. Autori come Andre Norton, autrice tra i tanti di Il mondo delle streghe, Eric Frank Russell, un autore britannico di fantascienza, e ancora Robert A. N. Lane, uno degli autori più importanti nel panorama fantascientifico degli anni 90. Come Martin stesso affermò nel corso del tempo, però sono stati due gli autori che hanno ispirato maggiormente le sue opere. Da una parte abbiamo Lovecraft, il maestro dell'errore, l'altra invece ovviamente per forza di cosa abbiamo J. R. R. Tolkien, il padre del fantastico che è stato una grandissima fonte di ispirazione per Martin. Grazie a tutte queste ispirazioni, Giorgio comincia immediatamente, fin da piccolo, a cimentarsi nello scrivere storie dell'orrore. Subito conquista la sua piccola ma voracissima fetta di pubblico, ovvero i figli dei suoi vicini di casa. Qui comincia a vendere questi racconti per qualche soldo. Cruza nel prezzo, tra l'altro, c'era anche una rappresentazione drammatica e struggente dello stesso Martin del racconto, quindi direi un vero affare per questi ragazzini. In questi anni, tra l'altro, Martin scrive una storia molto particolare, una storia che prende ispirazioni da fatti realmente caduti e che hanno come protagonista delle tartarughe, ovvero le tartarughe che Martin stesso aveva in questo castello giocattolo. La storia era ambientata in un regno in cui, appunto, le tartarughe erano le protagoniste e l'ispirazione deriva dal fatto che queste tartarughe all'interno di questo castello giocattolo morivano improvvisamente, così, senza nessun motivo apparente, soprattutto in maniera molto veloce. Quindi Martin aveva un'idea tutta sua, una teoria tutta sua sul perché queste tartarughe improvvisamente morissero così dal nulla. La più logica spiegazione a cui era arrivato Martin era che queste tartarughe si uccidevano a vicenda tra di loro. Questi omicidi derivavano proprio dal fatto che c'erano degli intrighi, dei misteri interni in questo castello giocattolo tra le tartarughe. Con ogni probabilità, questo è stato quello che ha ispirato maggiormente George Martin per poi scrivere le cronache del ghiaccio e del fuoco. Siamo arrivati al periodo della quasi maturità per George, ovvero le superiori. E' proprio in questo periodo che nel giovane George comincia a svilupparsi una grande e fortissima passione per i fumetti. In poco tempo ne diventa un collezionista canito e un grande appassionato. Proprio questa passione che lo portarono a scrivere lettere alla redazione Marvel dirette a Stan Lee e a Jack Kirby. In una di queste lettere in particolare, Martin esprimeva il suo entusiasmo per il numero 17 dei Fantastici Quattro, che a detta sua era più che eccezionale. Siamo nel 1970, anno che segna l'esordio di Martin come autore. Vende infatti il suo primo racconto chiamato The Hero, che verrà pubblicato solamente l'anno successivo. I primi anni del 70 furono per Martin un periodo di grandi soddisfazioni. Infatti vendette il suo primo racconto. L'aureo in giornalissimo con il massimo dei voti nella Northwestern University di Evanston. L'anno dopo portò a conclusione la sua carriera universitaria. Per qualche anno però George comincia ad accantonare la sua passione, la sua voglia di scrivere. Comincia ad occupare sempre meno tempo nella vita di Martin e si occupa di altre cose. Passò ad essere un obiettore di coscienza, a dirigere tornei di scacchi, che badate bene fu un'attività che occuparono ben tre anni della sua vita. L'aureo come insegnante di giornalismo al Clark College in Oyua e si sposò con Gail Burnick, un matrimonio che aveva solamente pochi anni. Cinque anni dopo, nel 1975, Martin torna finalmente a fare sul sedio. Comincia con più frequenza a occuparsi di scrittura e con il suo processore WorldStar 4.0, che tuttora usa, vide la luce negli anni successivi a diversi racconti e romanzi che cominciarono a far conoscere sempre di più il suo nome. Martin è un personaggio sicuramente molto particolare e la tecnologia sembra essere il suo più grande nemico, manco fosse un estraneo arrivato direttamente da oltre la barriera. Il processo di scrittura di suoi romanzi non usa dei normali software come, non lo so, Word o qualsiasi altra cosa, ma utilizza questo WorldStar 4.0, un programma di scrittura uscito nel 1978 che a una prima vista della schermata, che vi lascio qua, sembra un complessissimo calcolo matematico da decifrare. Martin stesso afferma che sì, è un programma molto vecchio, ma comunque rimane insuperabile. Durante i scrittori, se siete interessati, dateci un'occhiata. E' proprio nel 1975 che Martin riceve il premio Hugo per il miglior racconto dell'anno, il racconto Canzone per Laia. L'anno 80 per Martin fu uno degli anni davvero molto, molto importanti. I suoi racconti cominciavano ad essere sempre di più riconosciuti, a portare a casa diversi premi. E' tanti spicca Il pianeta dei venti, pubblicato nel 1980, che era una raccolta fantascientifica con tre racconti, oppure Il battello del delirio del 1982, che fu uno dei più grandi successi di Martin. Poi nel 1983 Martin pubblica il suo quarto romanzo, The Armageddon Rag. Il libro fu un flop completo su tutti i fronti. Martin stesso affermò che questo insuccesso per questo romanzo, per lui all'epoca fu un vero colpo, e distrusse quasi completamente la sua carriera. Sempre in questi anni, nel 1986, esce poi il primo volume di Wild Cards. Tratta di una serie fantascientifica che Martin cura, e poi nel tempo scrisse anche uno dei romanzi. Nonostante i numerosi riconoscimenti ricevuti, e il particolare interesse che gli appassionati di fantasy e fantascienza riservavano a Martin, il pubblico generale, quello di massa, sembrava davvero poco interessato al suo lavoro. Le sue storie tendevano a rimanere comunque in quell'ambiente, e non riuscivano ad emergere più di tanto. Così, nel 1986, Martin decide di dare una svolta alla sua vita, e di trasferirsi a Hollywood, dove comincia a sviluppare serie televisive per la CBC. In questi anni, Martin si occupò e lavorò per diverse sceneggiature, come quella dei Confini della realtà, oppure quella per la serie televisiva della Bella e la Bestia, dove successivamente poi divenne anche produttore. Agli inizi degli anni 90, lavorò anche per la Columbia Picture Television, sempre come sceneggiatore o produttore esecutivo delle serie TV, ma poi Martin cominciò a capire che l'ambiente televisivo non era adatto alle sue esigenze. Decide quindi di abbandonare Hollywood. Siamo arrivati al 1991. Questa è una data fondamentale nella vita di Martin, una data fondamentale per tutti gli appassionati di Martin. È proprio in quell'anno che Martin cominciò a sviluppare l'idea, a scrivere qualcosa su quella che diventerà una delle serie fantasy più amate e più lette negli ultimi anni, ovvero le cronache del ghiaccio e del fuoco. Aspirare Martin nello sviluppo e nella creazione di questa serie furono due cose in particolare. La prima è la Guerra delle Due Rose, una delle guerre inglesi più importanti e più famose anche a livello televisivo, filmico, libresco. Tratta infatti di una guerra tra due delle casate plantegenei, da una parte Lancaster e dall'altra New York. Seconda grande ispirazione fu il romanzo storico Ivan O di Sir Walter Scott. Martin era davvero molto soddisfatto e convinto dell'idea di questa serie, che propose la serie al suo agente descrivendola come un high fantasy diviso in tre volumi, quindi una trilogia. Andò le prime 170 pagine del libro, ovvero i primi 13 capitoli, e un'idea generale su quello che dovevano essere i vari plot e le varie cose che succedevano in questi tre libri. La lettera che Martin scrisse al suo agente andava a sviluppare per punti la sua storia. Tre dovevano essere i conflitti principali che avrebbero smosso tutte le vicende. Il primo conflitto doveva essere quello tra la casata degli Stark e quello dei Lannister, un intrigo di colpi di scena, ambizioni, indetta, assassini. E il premio finale? Ovviamente il trono dei Sette Regni. Il secondo punto è poi la preparazione di Deutrachia, quella che doveva essere l'invasione dei Sette Regni sotto il comando di Daenerys, nata dalla Tempeste e ultimo della casata Targaryen. Quest'invasione doveva essere sviluppata nel secondo libro della serie, che doveva chiamarsi inizialmente A Dance with Dragon. Infine abbiamo il terzo e ultimo pericolo, quello più grande, quello che viene dal nord. Quello che viene dalle terre ghiacciate oltre la barriera. Dove dei demoni di ghiaccio praticamente dimenticati e fonti di leggenda chiamate gli altri sono pronti a risvegliare una legione di non morti con l'intenzione e con l'obiettivo di invadere i Sette Regni e portare via di cancellare qualsiasi cosa si possa definire viva. L'unica cosa che divide i Sette Regni e la lunga notte, ovvero l'invasione di questa legione di non morti, è la barriera e degli uomini in nero chiamati The Night's Watch. Questa sarebbe stata la storia principale del terzo e ultimo libro chiamato The Winds of Winter. Martin in questa lettera al suo agente mette in chiaro immediatamente una cosa, ovvero l'intenzione di uccidere diversi personaggi nel corso della narrazione e lui stesso affermò voglio che i lettori sentano che nessuno è mai completamente salvo, nemmeno il personaggio che dovrebbe essere, l'eroe. Io direi, caro Martin, questo messaggio l'abbiamo ricepito forte e chiaro, stai tranquillo, è arrivato. Inizialmente le idee di Martin per le cronache del Giaccio del Fuoco erano un po' diverse, c'erano alcuni punti che si sono sviluppati poi effettivamente in modo completamente diverso. Per esempio, Tyrion Lannist era innamorato della nostra giovane Arya, ovviamente non era ricambiato, ma anzi lei era innamorata di Josno, il figlio bastardo degli Stark. Anzi lo spregevole Joffrey, ovvero il figlio di Robert Baratheon e Cersei Lannister, dovevano avere un figlio, un figlio che sarebbe morto tra l'altro per mano di Tyrion Lannister e anche la sorte di Robb Stark, il figlio maggiore della casata degli Stark, doveva essere in qualche modo diversa, anche se più o meno poi è andata così. Infatti, nell'intenzione principale di Martin, Robb doveva morire per mano di Jaime e Tyrion stessi. Poi un'altra cosa aveva chiarito fin da subito, solo cinque dei tantissimi personaggi presenti all'interno di questi tre libri sarebbero sopravvissuti e sarebbero arrivati poi all'ultimo libro. Questi personaggi erano Daenerys, Tyrion, Arya, Bran e Jon Snow. Ovviamente questa era l'idea di partenza di Martin e come ben sappiamo le cose sono cambiate drasticamente, soprattutto per il fatto che non è più una trilogia, ma si tratta di una serie di sette libri e per ora, come tutti quanti sanno, sono usciti i primi cinque. Gli ultimi due ancora non si sa che fine faranno, se mai li scriverà e tra l'altro Martin stesso ha affermato che alla sua morte, oggi come oggi, Martin ha 71 anni, 71 ragazzi, e ha la gotta, 71 anni e ha la gotta. A parte questo, dicevamo che Martin ha affermato che alla sua morte nessuno deve tirar fuori niente, se i suoi libri non sono usciti, cavoli nostri. Siamo arrivati al 1996, una data importantissima perché è l'anno in cui esce il primo libro della serie delle cronache del ghiaccio e del fuoco, chiamato A Game of Thrones, il gioco del trono. Anche per quanto riguarda questa prima grande uscita, il pubblico sembrava abbastanza indifferente, infatti fu solamente nel 2005, con l'uscita del quarto volume, per la prima volta un libro di Martin raggiunse la prima posizione in classifica. Venne un bestseller del New York Times e arrivò anche in prima posizione nel Wall Street Journal. Nel 2011 arriva A Dance with Dragon, ovvero il quinto e per ora ultimo volume della serie che in Italia fu diviso in tre volumi. Questo quinto volume ovviamente arrivò immediatamente ai vertici della classifica, posizionandosi subito in prima posizione, conquistò la prima posizione del New York Times dove rimase per più di un anno. Nella sua totalità in questi cinque libri Martin ha scritto ben due milioni di parole. Primo libro, A Game of Thrones, sono 2980 parole, il secondo, A Clash of Wings, sono 3226, il terzo, A Storm of Swords, sono 4224 parole, il quarto libro, A Fist for Crows, sono 3.000 parole precise precise e l'ultimo libro, A Dance with Dragons, sono 4222 parole. Come ben sappiamo, il vero e grande successo di Game of Thrones a livello mondiale è arrivato molto tardi rispetto all'uscita del primo libro che risale al 1996. Il vero successo arrivò proprio con l'uscita della serie TV. HBO acquistò i diritti dell'intera serie nel 2007 per poi arrivare su tutte le televisioni il 27 aprile del 2011. La serie negli anni ha conquistato sempre una più grande notorietà. La prima stagione venne candidata a ben 13 Emmy, vincente nei due. La serie televisiva di Game of Thrones sicuramente ha cambiato, ha cambiato, rivoluzionato il modo di percepire, guardare e consumare un prodotto televisivo. Ha rivoluzionato totalmente il concetto di serie TV. Collegate al mondo dei libri, delle cronache del ghiaccio del fuoco, ci sono altre diverse opere che Martin ha scritto nel corso del tempo. La prima è Il Cavaliere dei Sette Regni, una raccolta di tre racconti. Primo, Il Cavaliere Errante venne pubblicato nel 1988 e negli anni successivi uscirono gli altri due racconti, ovvero La Spada Giurata e Il Cavaliere Misterioso che poi vengono aggruppati in un solo libro, disponibile anche in Italia con una bellissima edizione illustrata, tra l'altro. Abbiamo poi La Principessa e la Regina e si tratta di un racconto contenuto nella raccolta Dangerous Woman applicata anche in Italia. Si tratta di una raccolta in cui variatori fantasy, appunto, scrivono di donne. Tra cui c'è questo racconto di Martin che è, appunto, incentrato nel mondo del cronache del ghiaccio del fuoco. Nel 2013 esce poi La Guzzia e la saggezza di Tyrion Lannister. Si tratta di una banalissima raccolta di citazioni di Tyrion Lannister che uscì anche in Italia. Nel 2014 esce The World of Ice and Fire. Si tratta praticamente di una grande enciclopedia sul mondo delle cronache del ghiaccio del fuoco e anche questo è disponibile in Italia. Poi abbiamo l'opera più recente di Martin, uscita nel 2018, Fuoco e Sangue. Questo è un prequel che va a raccontare la storia di Targaryen ed è ambientato 300 anni prima tutte le vicende del primo libro della serie. Che in Italia, ovviamente, è disponibile in una classica versione e poi è recentemente uscita anche una stupenda edizione illustrata. Martin, ovviamente, è famoso in modo particolare per essere l'autore delle cronache del ghiaccio del fuoco ma sono davvero tantissimi, soprattutto i racconti e i romanzi e le sceneggiature che ha scritto nel corso del tempo. Sono veramente, veramente tanti. E in Italia, in qualche modo, c'è una grande confusione per quanto riguarda la pubblicazione dei racconti e delle varie sceneggiature, delle opere autobiografiche. Sono uscite varie raccolte. Ne prendevano alcune e ne altre ne prendevano altre. Grande casino. Ma andiamo per ordine perché nel 2013 Martin pubblica questa antologia chiamata GRRM-AR Retrospective. Un titolo agghiacciante. L'antologia, fortunatamente, è stata pubblicata anche in Inghilterra con un titolo diverso, ovvero Dream Song. E fortunatamente con questo titolo è arrivato anche in Italia diviso in due volumi. Nella versione originale sono 34 i racconti che sono contenuti in questa antologia che sono praticamente quasi la totalità di quelli scritti da Martin. Come vi ho detto, in Italia la pubblicazione è stata un po' travagliata. Viene inizialmente pubblicata nella collana Onnibus in due volumi, i canti dei sogni volume 1 e volume 2. Il primo conteneva sette racconti, mentre nel secondo i racconti erano quattro e c'erano anche due sceneggiature e due racconti autobiografici. Gli altri racconti in Italia, poi, sempre per Mondadori, vennero pubblicati anni prima con altre due raccolte, Il re di sabbia e Le torri di cenere. E oggi questa confusione, in qualche modo, per fortuna è stata superata perché la Mondadori nella collana Oscar Draghi ha pubblicato sempre in due volumi l'intera antologia. Di questi racconti ce ne sono alcuni che, anche in Italia, sono disponibili come edizioni singole. Abbiamo, per esempio, I viaggi di Tuff. Tratta di un ciclo di sette racconti sempre fantascientifici con protagonisti a Villiard Tuff. Il mercante interplanetario viene in possesso di un cargo militare con all'interno del materiale clonabile. Un materiale potentissimo che spinge a Villiard a studiarlo e a viaggiare per la galassia, per i vari pianeti, utilizzandolo. Poi abbiamo Night Flyers, anche questo è un racconto fantascientifico che è stato pubblicato proprio quest'anno, sempre dalla Mondadori, per l'uscita della serie TV. E poi abbiamo Nella Casa del Verme, uno dei primi racconti di George Martin pubblicato nel 1976, uscito in Italia sempre in edizione singola per Mondadori. È un racconto che intreccia horror e fantascienza in un mondo in cui il sole sta morendo e le persone, ovviamente, devono cercare di sopravvivere a questo cataclisma. Poi ci sono i romanzi. Il primo romanzo di Martin risale al 1977. Si tratta di Dying of the Light, il primo racconto di fantascienza di Martin. È ambientato sul pianeta di Worlon, un pianeta che si avvicina sempre di più al sole e mano a mano comincia a diventare abitabile. Se i popoli e le culture cominciano a colonizzare questo pianeta rendendolo in qualche modo abitabile, ci riescono, però c'è un problema, ovvero che il pianeta allontanandosi nel suo ciclo dal sole comincia piano piano a morire e quindi ridiventa inabitabile. È stato candidato al Luga Award come miglior racconto nel 1978. Anche per il British Fantasy Award l'anno successivo, nel 1979. In Italia anche questo è pubblicato per la Mondadori con il titolo Alla luce morente. Nel 1980 esce poi The Ice Dragon, il primo romanzo per ragazzi scritto da Martin. Conta la storia di Adara, questa ragazzina che fa l'incontro di un drago di ghiaccio che appunto arriva in questo villaggio solamente d'inverno. I due si staura subito un forte legame, anche perché sembra che Adara sia l'unica in grado di poterlo controllare in qualche modo e finiranno anche per partecipare, per prendere parte a questa guerra che impervia sul suo villaggio. In Italia è stato pubblicato con il titolo Il Drago di Ghiaccio. Passiamo poi all'anno successivo nel 1981 a Windhaven, anche questo è un romanzo fantascientifico scritto a due mani con Lisa Tuttle. Il romanzo è una raccolta di tre racconti ambientato sul pianeta dei venti, un pianeta abitato da dei discendenti di astronauti nafragati su questo pianeta. Anche questo ce l'abbiamo in Italia con il titolo Il Pianeta dei Venti. 1982 esce Fever Dream, dove Martin si cimenta in una storia sui vampiri ambientata in Mississippi a bordo di un battello a vapore. Amber, il capitano di questo battello, è in un mare di guai. La sua compagnia di navigazione è sull'oro di una crisi, ma c'è qualcuno che potrebbe in qualche modo salvarlo. In arrivo di questo gentiluomo inglese che gli offre appunto di comprare un nuovo battello per solcare le acque e in cambio Amber dovrà mantenere una certa riservatezza sulle particolari abitudini di questo gentiluomo inglese e dei suoi ospiti. L'Italia è sempre pubblicata da Mondatori con il titolo Il Battello del Delirio. Poi abbiamo Armageddon Rugged. Nel 1983 esce quest'opera che, come abbiamo detto all'inizio, è il suo più grande in successo. Nonostante il poco successo che questo romanzo ha ricevuto all'uscita, Stephen King afferma che questo sia il romanzo migliore che lui abbia mai letto per quanto riguarda la cultura pop americana. È ambientato nell'America degli anni Ottanta, dove lo scrittore Sandy Black è in pieno blocco creativo. E gli viene affidato l'incarico di scrivere l'articolo sulla morte di un promoter musicale ucciso misteriosamente. Con ogni probabilità, la sua morte deriva da un sacrificio rituale. Anche questo, ovviamente, è pubblicato da Mondatori con il titolo originale. E infine, come abbiamo accennato prima, abbiamo la serie Wild Cards. Il primo libro uscì nel 1986 a cura di George Martin stesso. Si tratta di una serie di romanzi e racconti scritta da Martin e da tanti altri autori. Il primo libro venne pubblicato nel 1987 e si tratta per lo più di una serie antologica in cui si vanno a sviluppare diversi archi narrativi che però vengono ambientati nello stesso universo fantascientifico. Anche questa è pubblicata con il titolo Wild Cards da Mondadori. Nel 2007 arriva la pubblicazione di Hunter's Run, scritto insieme a Gardner Doizos e Daniel Abram. Il libro fu pubblicato nel 2008 da Fanucci in Italia. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio che è stato conoscere George Martin. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto in qualche modo, che magari abbiate trovato degli sviluppi possibilmente interessanti, cose che forse non conoscevate, non lo so. Ovviamente sono tutte cose che io ho cercato su internet, le ho raccolte e le ho proposte in questo modo. Sono tutte cose che tutti voi potete trovare ma che io ho appunto raccolto e messo in questo video. Spero che questa rubrica possa piacervi. Fatemi sapere che cosa ne avete pensato e quali sono magari gli autori che vorreste vedere prossimamente. Io vi aspetto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!